Saluto a tutti e un buon ascolto di questa mia canzone. Sono Cosimo Mascolo, sono un compositore e aranciatore di brani musicali. La musica è una mia passione, un hobby non è la mia professione. Oltre alla composizione ho un bagaglio di 55 anni di esperienza live con band e piano bar. Ho 70 anni, vivo in Italia, sulle due limiti melonesi e precisamente il calore. La musica è una mia passione, vivo in Italia, sulle due limiti melonesi e aranciatore di brani musicali.